5 le interrogazioni del consigliere Egidio Mirra depositate al protocollo del comune di Batipaia. 5 atti che verranno discussi in sede del prossimo consiglio comunale. Il consigliere Dem pone l'attenzione innanzitutto sull'area industriale e sul rilancio delle attività produttive, per cui chiede il rilascio di certificati in tempi brevi. E ancora si interroga sulla ZES e sul rapporto tra SUAP e SURAP, lo sportello unico regionale. E poi ci sarebbe ancora la modulistica semplificata, concordata tra governo e regioni. Lavoro e imprese sono le priorità, soprattutto al sud, aggiunge il segretario del PD, Davide Bruno, e noi abbiamo presentato 5 interrogazioni per capire se c'è certezza sulle regole da seguire per chi vuole avviare un'attività. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.